bene 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 ben ritrovati con questa nuova rubrica messaggio vocale cos'è messaggio vocale e perché abbiamo pensato questa nuova rubrica messaggio vocale è un luogo all'interno del quale poter condividere idee pensieri ed esperienze maturate in ambito detailing e carrozzeria perché abbiamo deciso di farlo dovete tenere presente che green soul qualche tempo fa pubblicava dei podcast e quindi condivideva attraverso solo l'uso della voce quindi solo l'uso del microfono condivideva esperienze e concetti legati al mondo appunto del tailing e della carrozzeria abbiamo voluto riprendere questo modo di comunicare però rivedendolo con un format completamente diverso è nata questa rubrica messaggio vocale lo dice la parola stessa perché attraverso un breve messaggio sarà possibile poter esprimere un'esperienza un'idea tutto quello che volete riguardo al detailing e alla carrozzeria lo faremo sui social chiaramente su facebook cercherò di realizzare un un video perché non è possibile poter condividere esclusivamente un messaggio vocale idem lo farò su youtube e instagram mentre la piattaforma dove pubblicheremo esclusivamente il il file audio è spreaker che è la stessa piattaforma che abbiamo utilizzato per i precedenti podcast vi dico un piccolo segreto è vero noi abbiamo comunicato in tanti modi attraverso dei video attraverso il testo attraverso delle immagini anche attraverso il podcast come vi dicevo poco anzi io preferisco comunicare con il microfono quindi solo con il microfono non che non mi piaccia stare davanti ad una telecamera anzi lo devo fare perché quando c'è da presentare un prodotto su come intervenire su un determinato problema è ovvio che bisogna farlo anche con un video però tra i vari metodi di comunicazione io quello che preferisco è il microfono e quindi vi vi dico quella che è la mia il mio gusto di comunicare ecco tutto qui e quindi ragazzi se volete partecipare se volete condividere le vostre idee potete farlo commentando il post e quindi esprimere la vostra idea e verrete contattati e poi ci organizzeremo su quello che sarà il tema da trattare potete farlo attraverso anche la mail assistenza chiocciola green soul punto it oppure potete inviare un messaggio attraverso la pagina green soul bene ragazzi io vi saluto e vi invito a partecipare a questa nuova rubrica cerchiamo di renderla bella frizzante bella ricca di contenuti e quindi tra qualche giorno pubblicheremo la puntata numero uno ora non so quale sarà il tema non so quale sarà chi sarà l'ospite è tutto un work in progress io ora condivido questa puntata numero zero in modo tale che possa capire quelle che sono le vostre opinioni cosa ne pensate di questo di questa nuova rubrica di questo nuovo progetto e quindi di conseguenza puoi sviluppare il tutto in divenire ciao ragazzi e a presto